Allora oggi cominciamo la seconda parte del corso, i risultati di chi è partecipato alle zone dove verranno comunicati in settimana. Avete visto insomma l'elenco e quindi per quella parte qui siamo al posto. La seconda parte del corso, questo corso è stato pensato fin dall'inizio come in qualche misura, come due parti abbastanza nettamente autonome per quanto ci sia una continuità di fondo. Se mi si permette un paragone abbastanza osceno è come le vite parallele di Plutarco. Sono due corpi che presentano delle analogie molto importanti ma che vivono anche di una certa relativa autonomia. Relativa autonomia perché ovviamente stiamo parlando soltanto di autori molto diversi. D'altra parte già Montaigne e Descartes come abbiamo già avuto che sono autori che in realtà sono molto differenti pur essendo all'interno di una corrente, o meglio di un momento storico tutto sommato abbastanza coerente e compatto. Rimane il fatto sicuramente che Descartes fosse un lettore di Montaigne e che alcune delle questioni che Montaigne aveva posto sono state poi in qualche misura almeno affrontate da Descartes. Il tema della certezza che è quello su cui ci siamo un po' più soffermati è soltanto una delle tante questioni. Bisogna tener conto poi che questa seconda parte del corso invece è pensata su un contesto che è profondamente diverso. Non soltanto perché c'è un viaggio di andata e ritorno che può sembrare e in certa misura è anche abbastanza anomalo perché dalla Francia andiamo in Scozia per poi tornare in Francia. Soprattutto sono passati 100 anni. Le meditazioni di filosofia prima di Descartes abbiamo visto sono state scritte intorno a 40, pubblicate 41-42 ed è quello che è il momento in cui cominciano a irradiare la loro formidabile potenza concettuale, filosofica. Sono un testo che le meditazioni sono davvero un testo che in qualche misura continuano a far pensare. Descartes è un autore che a volte esplicitamente, penso soprattutto un importantissimo autore contemporaneo come Jean-Luc Marion, a volte implicitamente, abbiamo già visto tutte le questioni riguardanti la frisovia e la mente, abbiamo accennato un po' comunque all'importanza dell'autore che continua ad essere presente. E questo, la novità, l'importanza del pensiero cartesiano viene avvertito immediatamente. Però i 100 anni che passano tra le meditazioni di Descartes e il trattato sulla natura umana di David Hume che venne pubblicato in tre libri, i primi due libri vengono pubblicati nel 1739, il terzo libro del 1740. Da uno Hume ancora piuttosto giovane, lui era nato nel 1711, quindi insomma aveva 28-29 anni quando pubblicò quella che rimane ed è indiscutibilmente la sua opera più importante, che non ebbe per niente successo. L'opera di Hume, il trattato sulla natura umana di Hume rientra un po' nell'opera di quelle straordinarie opere di filosofia che alla loro apparizione riscossero praticamente un interesse, non dico nullo, ma quasi, non fu particolarmente dibattuta, o meglio, non vendette. La fortuna di Hume come filosofo, come scrittore successiva in particolare è dovuta alla sua storia di Inilterra, che è un testo di grande importanza storiografica, politica, anche un notevole successo di pubblico. Gli garantì con l'indipendenza economica che, anche a volte si chiude l'indipendenza economica, che Hume pur essendo di famiglia nobile, ma una nobiltà, una piccola nobiltà, comunque una nobiltà non particolarmente ricca e comunque era verso a genito, quindi essenzialmente gli spettò veramente poco, a cui pure Hume teneva molto. Non dimentichiamo mai questi particolari che sembrano sciocchi ma non lo sono. Tenete conto che i filosofi spesso, finché la filosofia non è diventata una disciplina accademica nel senso più forte e questo succede di fatto tra i sette e l'ottocento. Essenzialmente l'identificazione di filosofo con un professore universitario spesso di filosofia è una cosa recente. Kant, Hegel e così via. Prima avevano bisogno spesso di protettori, di mecenati e così via. Quindi a volte certe situazioni che possono sembrare strane sono anche da comprendere all'interno di processi politici, molto precisi, per dire un autore importantissimo come Thomas Hobbes fece di fatto il precettore e quindi fu all'interno un'importante famiglia nobile. Ma comunque questo minò, poteva minare, in parte minò forse probabilmente, non più di tanto una certa autonomia non di giudizio e di elaborazione filosofica ma soprattutto una serie di prese di posizione immediate. David Hume per esempio, tra le altre cose, tentò più volte di entrare all'università, insegnare all'università a Glasgow, ma non ci riusci mai, nonostante importanti appoggi quelli di un amico come Adam Smith. Perché? Essenzialmente perché le opere di Hume, soprattutto quelle successive, in particolare la storia naturale della religione, che è un'opera molto bella. Ecco, un altro carattere di David Hume che voglio sostenere è la bellezza dello stile. Il trattato sulla natura umana e l'opera che ha avuto quello successo, anche quella stilisticamente forse meno curata, un po' più difficile da leggere, lo stesso Hume imputò l'insuccesso dell'opera al fatto che fosse un'opera troppo difficile, troppo complessa e che invece nel momento in cui venne rielaborata e rifusa in diverse opere, a partire dalle ricerche sull'intelletto umano, che Hume pubblicò nel 1948 e che invece ebbero già un notevole successo. E poi ancora, precedentemente, i saggi morali politici, Hume fu un importante esponente dell'illuminismo morale di quello che potrebbe, diventa così, l'illuminismo morale significa molte cose. in fin dei conti, se ci pensate, la morale illuminista è una morale che si presta a molte interpretazioni, la più celebre indiscutibilmente è quella kantiana. D'è come morale razionale. l'illuminismo morale non è razionale. L'illuminismo morale è fondato essenzialmente sulle passioni, ma, come avremo occasione di vedere, l'illuminismo ha la stessa ragione, in fin dei conti, è non è altro che una forma delle passioni. Ancora, l'opera, per certi aspetti, più bella, letteralmente non solo l'illuminismo, è i dialoghi sulla religione naturale. È un'opera che mi è pubblicata a posto, la storia naturale della religione, che era pubblicata nel 57, aveva già procurato a Jung notevoli problemi con i teologi, con i religiosi e tutto sommato comunque col mondo culturale scozzese e inglese. Essenzialmente non era particolarmente gradita la posizione scettica, per non dire atea, di Jung. Non era particolarmente gradita l'illusioni con la quale Jung trattava la religione rivelata, tutte le religioni rivelate, e questo gli procurò notevoli difficoltà. Oltretutto, io avevo anche collaborazioni con esponenti, collaborazioni, rapporti di amicizia, meglio, con esponenti della cultura francese che erano decisamente sospetti. Era stato, in primo anno, in primo periodo, tra il 34 e il 37 alla Flesch. E questo già vi dovrebbe, se non troverà, sono passato 200 anni, ma insomma il ruolo centrale, il ruolo culturale era comunque importante. Lo stesso ruolo, un collegio in cui aveva studiato De Cassi, trovava la Flesch. E lì aveva scritto gran parte del trattato sommato romano. Nel 63 Eum torna in Francia, per essere precisi, a Parigi come segretario dell'ambasciatore inglese. E rientra in contatto con la cosiddetta Cote Riedelbach, in particolare con il barone Paul-Henritte Riedelbach, che era un tedesco che in realtà era diventato francese di elezione, forse il più coerente, rigoroso, qualcuno dice maniacale e materialista del pensiero europeo del Settecento, Irreligioso come nessun altro, Ateo Manifesto, per quanto ovviamente le sue opere fanno una circolazione spesso clandestina, se non addirittura manoscritta, sempre per questioni di opportunità politiche. E grande mecenate, vecchissimo, grande mecenate di tutti i filosofi più eterodossi dell'epoca, uno su tutti. Diderot, che rivide la traduzione francese del Dererum natura di Lucrezio, che Dolbar aveva fatto, ha commissionato al precettore delle sue figlie, perché voleva che le figlie studiassero qualcosa che non fossero i soliti classici testi filosofici e religiosi, ma voleva qualcosa di sanamente materialista. Quindi pensate semplicemente a questo, a qualcuno che fa insegnare al proprio precettore, fa tradurre Lucrezio in francese, Diderot rivede per questa traduzione, e l'influenza del Dererum natura è presente in quella che rimane l'opera, secondo me, più bella, o quantomeno non è più interessante in Diderot, che risale proprio a questi anni, che è il sogno di D'Alembert. Altra opera che abbia una circolazione abbastanza bizzarra, su cui non possiamo soffermarci, ma insomma, a un certo punto sembrava sparita, poi è ricomparsa, Diderot ha detto di averla bruciata, probabilmente, perché ce l'abbiamo, ma insomma, era una caratteristica che Diderot era un adorabile bugiardo, diceva una cosa e ne faceva un'altra, ma sapeva benissimo che gli altri non gli credevano. È un contesto culturale molto particolare, e in questo contesto Hume entra anche in contatto con Rousseau. L'amicizia con Rousseau, in un primo momento, un'amicizia straordinaria, Hume accoglie Rousseau a casa sua. Ma Rousseau era già, a quell'epoca, fobico riguardanti i complotti e la maniera di persecuzione, che esplosero anche quando era in Inghilterra, al punto che il rapporto si ruppe ben presto e Rousseau tornò in Francia, nascondendosi, convinto che anche Hume facesse in qualche modo parte di un gigantesco complotto ai suoi danni. È interessante leggere alcune pagine dell'ultima opera di Rousseau, L'Everie, le fantasticherie di un passeggiatore solitario, in cui Rousseau a un certo punto fa una riflessione molto particolare, perché dice sono stato vittima di un complotto talmente raffinato che non è possibile che gli uomini ne siano responsabili. Non ci può essere nessun uomo responsabile di un complotto così raffinato e potente. Questo vuol dire che questo complotto è stato udito direttamente dalla divinità. Altro che genio maligno cartesiano, qui siamo a livelli straordinari. Però poi Rousseau aggiunge, ma se anche fosse così dovrei amare comunque la divinità perché troppo perché ha comprottato contro di me, perché il mio primo dovere è quello di amare la volontà divina, la divinità in qualsiasi sua manifestazione. si manifesta con me con una forma della persecuzione, ma vuol dire che io ho dovuto essere come dire, testimone comunque di una volontà straordinaria. Rousseau e Hume appunto ebbero rapporti complessi, controversi, e a un certo punto appunto un buon Rousseau se ne torna in Francia. Hume resta in Inghilterra e morirà nel 1976 probabilmente a causa di un tumore. Come vi ho detto passano 100 anni tra le meditazioni di Descartes e il trattato sulla natura umana di Hume. Cento anni che sono straordinari dai miei punti di vista, ora non voglio qui fare la solita questione, ah sì no, la faccio come l'ho detto, sull'importanza dell'empirismo inglese. In qualche misura Hume viene spesso a livello anche manualistico inserito in una sorta di percorso a carattere quasi triadico che inizia con Locke, continua con Berkeley e termina appunto, colmina con il più radicale dei pensatori, che è David Hume, il quale si fa esplicitamente promotore in uno scetticismo in filosofia di tale radicalità e di tale innovatività che giunge a un punto di non ritorno. L'esito scettico dell'empirismo, di nuovo il solito spettro kantiano che si agisce su questo corso. Il fatto che Kant dedichi dieci anni della propria vita, dal 1770 all'81, alle elaborazioni di quella che sarà il suo capolavoro filosofico indiscutibilmente, o almeno uno dei suoi propri lavori filosofici a critica e a ragion pura, per rispondere alla critica jummiana al problema, al concetto di causa, per dare una soluzione ai paradossi che Hume aveva individuato nella sua filosofia su tutti i processi di conoscenza. Li vedremo la prossima settimana con un'analisi più dettagliata di un paio di parti, di capitoli del Trattato su Natura Umana. Voi avete la parte terza e quarta del libro primo. Il Trattato su Natura Umana è composto da tre libri. Il primo libro è appunto dedicato alla conoscenza e voi avete quello che riguarda essenzialmente la scetticismo, la quarta parte, e poi la prima parte è quella dedicata alla conoscenza e alla coscienza, con il punto essenziale, per quello che riguarda l'intelletto, dell'identificazione jummiana di impressione e idea. Questa è una cosa su cui torneremo. Già Locke. L'empirismo è in qualche misura una di quelle correnti filosofiche che, come lo scetticismo viene da dire in parte, è a seconda di come la inquadriamo coestensiva con la storia della filosofia oppure molto più definita. In fin dei conti, fin dai tempi di Democrito e soprattutto di Epicuro, si può parlare in qualche misura di empirismo. Se davvero assumiamo questo termine come quella dottrina filosofica secondo le quali tutte le nostre idee derivano in qualche misura dalla conoscenza sensibile, che perfino Aristotele può essere eletto in questa chiave, ma ovviamente è una chiave decisamente troppo limitativa, però è comunque una chiave di lettura che a volte sta alla proposta. In realtà l'empirismo, propriamente detto, è una corrente filosofica che è fortemente localizzata geograficamente, nel senso che essenzialmente di carattere inglese. Gaston D, per prendere il nome, per fare un esempio, di un autore con cui abbiamo avuto un attimo a che fare, è presente degli elementi empiristici, indubbiamente. Ma non è riconducibile a questa tradizione filosofica che lega essenzialmente, fin da quello che è considerato per certi aspetti il suo fondatore vero e proprio, che è Thomas Hobbes, più ancora che Francesco Bacone, lega due elementi importanti. L'origine della conoscenza dai sensi, e quindi il carattere essenzialmente esperienziale della formazione delle idee, su cui, e qui torniamo di nuovo a questo strano movimento di avanti e indietro, di andate e ritorno, in Francia nel Settecento si scriveranno pagine straordinarie autori come Condiach e Nervertius, che erano lettori molto attenti di John Locke, autore questo di fondamentale importanza nella tradizione filosofica, non soltanto inglese e non soltanto per quel che riguarda la teoria della conoscenza. Pensate semplicemente, scusate, hai tra due trattati sul governo. il saggio sull'intelletto umano, che è l'opera filosoficamente più importante di Locke, pubblicata credo nel 1690, il saggio sull'intelletto umano, anche qui non tanto semplicemente il titolo, il passaggio da Locke a Jung. Da una parte c'è un saggio sull'intelletto umano, saggio a singolare, non come in montagna, a plurale, e questo perché in qualche misura c'è, possiamo già vedere che c'è stata una codificazione del termine, attraverso Bacone soprattutto per quel che riguarda l'area inglese. Bacone, l'ho già detto, fu tra i più importanti, intelligenti e acuti lettori di Montaigne, al punto che fece proprio il termine se, per quella che era la sua prima opera stampa, i saggi, anche se Bacone aveva detto la parola è nuova ma la cosa è vecchia, perché in realtà Montaigne e lui stesso non facevano in qualche modo che apparentemente almeno riprendere le lettere di Lucilia, il modello stilistico delle lettere di Lucilia di Seneca. Poi però il saggio subisce una trasformazione interna e si godifica in qualche modo formalmente e con Locke abbiamo già un'opera compiuta. Non è più un tentativo di saggiare come Montaigne fino alle estreme conseguenze. Avete visto il saggio dell'esperienza? È difficilissimo riassumere l'interesperienza. È ancora più difficile riassumere l'apologia de Montaigne. Se l'apologia de Montaigne è un saggio, un'opera di estrema complessità, estremamente divagante, ma che in qualche modo uno può cercare forzatamente di racchiudere in poche parole come il tentativo di smontare ogni pretesa della ragione di giungere a una conoscenza e natura divina facendosi piuttosto invece sostenitore a Montaigne di una sorta di fra virgolette teologia negativa, espressione che si può applicare a Montaigne fino a un certo punto. Ma insomma per ora accontentiamoci. Il dell'esperienza è anche peggio perché dell'esperienza non è altro che appunto un continuo, un aperto e strutturalmente aperto nel continuamente presentare casi diversi. Il principio della dissomiglianza su cui abbiamo molto insistito. Beh, il saggio sull'intelletto umano di Locke non presenta più questo elemento così estremamente aperto e divagante. In realtà un'opera più strutturata e costruita in cui Locke definisce quelli che sono le coordinate essenziali della nuova filosofia empirista a cominciare dalla critica delle idee innate che sappiamo in Descartes ha un po' assolutamente straordinario. Critica delle idee innate che Locke è rivolta non solo e non tanto nei confronti di Descartes ma anche nei confronti di un personaggio, di un autore molto interessante di poco precedente che era Herbert di Cerboli il quale parlava di nozioni comuni di nozioni comuni diciamo che presentava i caratteri dell'innatezza presenti in tutti gli uomini. Critica delle idee innate, assunzione secondo la quale le idee derivano tutti dai sensi, Herbert di Cerboli sì, Herbert verrà 200 anni dopo circa, sì sì no, era fratello del grande poeta John Herbert, notevole, autore di un'opera latina intitolata Il De Veritate, estremamente interessante e in cui diciamo che la posizione filosofica di Herbert di Cerboli detta in poche parole è tutta centrata sulla riflessione di stampo filosofico e religioso motivando una essenziale unitarietà di fondo di tutte le religioni sulla base di una nozione comune di un Dio provvidente Dio provvidente che appartiene alla ragione umana, alla ragione universale contro ogni forma di ritualizzazione di, come posso dire, definizione per via istituzionale questa è una posizione su cui, per esempio, tornerà anche Vico che sarà un importante lettore di Herbert di Cerboli diciamo che Herbert si muove all'interno di quella che ha una concezione che possiamo definire unitarista della religione in cui, anche qua, aprendo una breve ma non troppo breve parentesi ricordiamoci sempre che la guerra di religione fino a 30 anni la guerra di 30 anni in Europa si diceva 48 in Inghilterra, che pure in qualche misura almeno fu esente dalla guerra di 30 anni ebbe problemi enormi al suo interno perché ci fu prima nocismo di Enrico VIII poi l'affermazione da parte della grande regia di Elisabetta Prima di una nuova chiesa il padre aveva fondato la chiesa anglicana ma la vera chiesa anglicana assume lo suo pieno potere con Elisabetta Prima la quale ebbe tra i nemici, tra i più importanti nemici, non soltanto i cattolici ma anche i presbiteriani scozzesi che erano promotori, come posso dire, di un calvinismo più radicale rispetto alla chiesa anglicana calvinismo più radicale non soltanto dal punto di vista della teoria della predestinazione ma anche dall'organizzazione presbiteriana della chiesa essenzialmente diciamo un'organizzazione più orizzontale non verticale invece strutturalmente gerarchica come la chiesa anglicana che in qualche modo mutuava la chiesa cattolica romana ma in fin dei conti chi è ancora oggi il capo della chiesa inglese? è la regina in Inghilterra c'è la perfetta identificazione tra stato e chiesa il Leviatano di Hobbes, ricordate? il celeberremo frontespizio in cui lo stato è composto da tanti piccoli individui che ha in mano una spada e in un'altra la mano in pastorale cioè quindi l'assimilazione totale un organismo statale politico dei due poteri temporale e spirituale non era semplicemente in Hobbes come dire un auspicio era anche in qualche modo una descrizione di ciò che era in Inghilterra e una legittimazione di ciò che è stato fatto in Inghilterra nella chiesa anglicana legittimazione contro che cosa? contro le pretese delle chiese dei sbiteriani di Scozia dei renters, dei dissidenti dell'esercito di Cromwell Inghilterra aveva conosciuto una prima rivoluzione violentissima il primo re ad essere mandato a morte non ad essere ucciso perché direi uccisi sappiamo che è piena la storia quello è il punto Enrico IV in Francia è venuto ucciso per esempio ma il primo re condannato a morte con un processo è ucciso e non da un altro re Enrico VIII non è che si fosse fatto problemi ma dal popolo fu durante la prima rivoluzione inglese quando Oliver Cromwell l'esercito di Cromwell prese il potere e Cromwell era dal punto di vista religioso un puritano ma quindi Hobbes come posso dire che dovremmo prendere su serie quella sua battuta secondo la quale lui era nato insieme alla paura voi sapete c'è questa cosa che si racconta di lui che abbia detto che egli sia nato quando la notizia dell'arrivo dell'invincibile armata la flotta spagnola che doveva invadere Inghilterra spaventò talmente tanto sua madre che partorì anzitempo e Hobbes disse che lui era nato con una sorella gemella che era la paura questa è stata interpretata in parte esagerando ma in parte no anche come un'importante chiave di lettura della sua filosofia della sua filosofia politica perché in fin dei conti a cosa mira l'assolutismo di Hobbes che è un assolutismo assolutamente coerente attenzione nonostante i tentativi di dare di Hobbes una chiave di lettura liberale direi che questa è una chiave di lettura essenzialmente sbagliata almeno se assumiamo il liberalismo come regime politico serio perché il liberalismo si fonda su alcuni elementi cardini quali sono non soltanto la libertà economica il libero mercato che in Hobbes in qualche misura c'è sono presenti ma non poi così tanto però diciamo sono presenti i elementi che vanno in questa direzione sono anche presenti i principi quali diritti individuali diritti umani diremo noi oggi il bilanciamento dei poteri la divisione la distinzione dei poteri cosa che in Hobbes non c'è in Hobbes e attenzione anche qui ricordiamo sempre in Hobbes il sovrano non è necessariamente un individuo non è necessariamente un re però questo principio vale tanto per le monarchie quanto per le democrazie perché anche la democrazia è un regime di potere assoluto l'assolutezza l'essere cioè sciolto sciolto è qualcosa che vale anzitutto nei confronti di un potere esterno ora qual è il principale potere esterno agli stati? essenzialmente la chiesa la chiesa di Roma ora anche qui come lo stesso Locke dirà in quell'altro so straordinaria obbligare la decisi della colleranza perché Locke diceva che bisogna essere solleranti con tutti soprattutto in ambito religioso tranne che con gli atei e con i cattolici ma in realtà gli atei tutto sommato li poteva ancora gestire perché non si può essere solleranti con i cattolici e per quale motivo ancora adesso in Inghilterra per legge un cattolico non può diventare primo ministro? vabbè adesso è ancora portato evidentemente in una tradizione però insomma per quale motivo c'è questo principio? vuole sapere Dottor Imbriere si è convertito al cattolicesimo ma dopo anche parecchio dopo e tra le questioni le tensioni che ci sono state ai suoi tempi c'è anche il fatto che la moglie fosse cattolica tra la moglie e il primo ministro si è cattolica la cosa che viene accettata oggi ma prima soprattutto il 700 non era necessariamente una cosa particolarmente apprezzata perché? perché i cattolici dovevano la loro fedeltà a un altro sovrano cioè notate di fatto l'interpretazione della religione del ruolo del Vaticano anche qui in questo caso si parla proprio del Papa quella è quella di un sovrano politico perché e qui anche qua tutta la serie di questioni perché era in questione la relazione anzitutto di carattere teologico politica tra il potere papale il potere spirituale il potere temporale se volete tutta la questione ancora che risaleva a tempo su chi dei due dovesse legittimare maggiormente l'altro cioè se l'imperatore o comunque il capo politico fosse autonomo fosse legittimato per altra via o piuttosto fosse legittimato la volontà di Dio che è l'unico vero messaggero o comunque l'unico vero interprete della volontà di Dio fosse il Papa ci sono questioni non da poco dietro la riscoperta che nel medioevo viene fatto nel diritto romano in particolare in particolare non solo eh ma in particolare in Italia nell'età comunale è anche un tentativo di fornire strategie di legittimazione politica alternativa essenzialmente il potere politico è un potere che deriva dal popolo cioè c'è una legittimazione dal basso Marsilio Lapparo e Tommaso D'Aquino per prendere due autori radicalmente diversi si confrontano con questo tema e come potete avete già capito questo è un problema che attraversa i secoli le riforme protestanti le riforme a plurale in questo caso è il caso di dirlo protestanti in particolare quelle che derivano in qualche misura da Calvino ripongono di nuovo il problema sulla legittimazione politica Calvino esiste moltissimo lo sappiamo sulla legittimazione religiosa però è una legittimazione che in qualche misura non avviene tramite l'autorità papale il buon Michele Serveto finisce come finisce perché la sua filosofia e la sua teologia mettevano in discussione anche la legittimità politica di come Calvino pensava la relazione tra fede e autorità i puritani i renters gli estremisti diremmo oggi inglesi del seicento facendo insistendo molto sul carattere autonomo delle chiese locali dei presbiteri mettevano essenzialmente in discussione la relazione delle autorità con la chiesa anglicana e quindi con il sovrano guardate se ci pensate questo è un tema che in qualche misura caratterizza tutto il seicento inglesi soprattutto ma non solo in qualche misura questo si ritrova anche in Olanda per esempio dove cioè il potere sovrano statale centralizzato vuoi nella forma francese vuoi nella forma spagnola in qualche misura è meno forte o quantomeno più forti sono gli elementi di tensione allora Hobbes abbiamo detto nel discorso caratterizza questa conformazione dello Stato proprio come risposta alla paura cioè perché gli uomini che ricordiamoci sono liberi Rousseau direbbe sono liberi per natura l'uomo sarà libero essere liberi in Omus significa non avere alcuna autorità superiore e quindi essenzialmente giudici riguardanti i propri diritti e i propri daveri ma questo significa anche non avere alcuna legge a cui rispondere che non sia semplicemente la propria volontà l'unica legge di natura qual è la lotta di tutti contro tutti l'uomo omini lupus più volte citato ma qual è il problema della libertà di questo tipo di libertà in Hobbes qual è la libertà suprema secondo Hobbes cosa ti mi hai chiesto? il fatto che chiunque può uccidere chiunque altro se io voglio qualcosa non lo posso prendere e se tu ti opponi io posso legittimamente attenzione questo è il punto legittimamente ucciderti ma di nuovo qual è il problema? che per quanto forti si sia ci può sempre essere qualcuno di più forte o di più furbo o di più intelligente pensate a Conifemo e Ulisse Ulisse era ovviamente una forte però alla fine Ulisse era cieca Giuditta la storia della mitologia è piena di uomini potenti che sono uccisi da esseri debolissimi e questo significa nella prospettiva omsiana il non poter mai vivere sereni la paura è ciò che caratterizza la mitra la storia di natura la paura è ciò che definisce tutti i nostri comportamenti ho fatto rifaccio un esempio per capire in qualche modo la questione o per rendere più prossima la questione voi immaginate di vivere in un posto qualsiasi a legge in cui vengono abolite immediatamente tutte le norme riguardanti il traffico per cui non soltanto non esistono più i sensi unici ma non esiste alcun tipo di normativo che possa essere tranquillamente metto cioccolare sulla sinistra e sulla destra prendere i sensibilitati senza problemi camminare con l'automobile su marciapiedi e così via uscireste di casa? io i miei figli non la farei mai uscire di casa ti giuro in casa non esiste neanche i miei gatti perché? perché cosa è? su cosa ci confidiamo noi uscendo di casa da questo proposito? che per quanto ci possa essere qualcuno che per sbatataggine o per malignità non rispetta le norme per lo più nella maggioranza dei casi le norme del traffico vengono rispettate cioè se io devo attraversare la strada guardo a destra se c'è un senso unico io guardo a destra magari per sicurezza guardo anche a sinistra ma se sono su marciapieni non mi aspetto di essere investito da un hammer perché su marciapieni gli automobili dovrebbero abbassare cioè ci sono delle cose che pur non eliminando del tutto la paura noi potremmo dire abbassare l'ansia e lo rendono gestibili quindi il motivo per il quale gli uomini si sottomettono fanno un patto di soggezione a un potere superiore alienando tutti i propri diritti e tutti i propri poteri attenzione perché il diritto è cruciale di fatto col potere quindi io rinuncio a tutto ciò tutti i miei poteri per aver garantita la sicurezza 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 che significa che appunto non la sicurezza assoluta che non succederà mai niente perché questo appunto non appartiene al mondo imperfetto degli uomini ma che posso stare relativamente tranquillo che non possa venire nulla legittimamente che non sia previsto dalla legge per cui che cos'è permesso nella prospettiva ruziano tutto ciò che non è è esplicitamente proibito per legge e quindi tutto ciò che non incontra un no questo significa essenzialmente ricordarsi sempre che se lo Stato decide per motivi di sicurezza o per motivi superiori di togliere tutte le mie proprietà ha il diritto di farlo cioè non c'è quindi un principio di diritto che gli impedisce di farlo semplicemente per lo più non succede perché altrimenti verrebbe a cadere se lo Stato si comportasse sempre così verrebbe a cadere in qualche misura la sensatezza stessa ma in Hobbes viene totalmente revocato quello che era un principio fondamentale del pensiero filosofico politico del Cinquecento che era il diritto e resistenza il diritto e resistenza che anche qui in qualche misura si può far risalire al medioevo addirittura prima che in qualche modo è già è adombrato quantomeno nella Magna Carta era stato esplicitamente rielaborato nei contesti soprattutto calvinisti tendiamoci non è il diritto di resistenza quella a cui immediatamente pensiamo nei termini di popolo che resiste a un tiranno ci sono molte mediazioni ma Hobbes per sicurezza lo elimina completamente non si ha mai il diritto di complottare contro lo Stato forse si ha il diritto di questo Hobbes non lo dice chiaramente ma si lascia inquire di fuggire perché anche qua ricordiamoci un elemento la prospettiva Hobbesiana non è una prospettiva di monarchia universale la prospettiva Hobbesiana è una prospettiva di uno Stato assoluto con i confini ben definiti ecco perché lo Stato di natura di guerra di tutti contro tutti si presenta a un livello superiore come nelle relazioni fra gli Stati non c'è un'autorità suprema quale poteva essere l'imperatore per dire nella prospettiva di Dante che a un certo punto interviene e dirime le questioni no c'è quello che era chiamato l'appello al cielo l'appello al cielo tornerà come elemento formidabile il Locke l'appello al cielo essenzialmente essenzialmente è la rivolta un popolo che si ritenga eccessivamente oberato la cui il regime politico è eccessivamente evidente ha il diritto di fare appello al cielo ovvero di rivoltarsi e dire a questo punto sarà Dio a decidere a ragione perché arriverà al vincitore a Chiara Dio che è il Locke ma non i Nobs un principio essenziale ma il Locke di nuovo fate caso ai titoli dopo il lievietano se parliamo di politica abbiamo i due trattati sul governo c'è l'accento viene posto non più tanto sullo Stato ma sul governo quindi su una forza un aspetto specifico non soltanto se Hobbes aveva centrato la sua filosofia straordinaria filosofia naturale sul concetto di corpo il decorpore la grande opera hobbsiana il decorpore e poi il decive il corpo e il cittadino in Locke abbiamo a che fare con i saggi sull'intelletto umano e quindi sulla definizione di leggi che avvengono come dire partendo da una elaborazione filosofica differente allora Hobbes vi dicevo cosa fa definisce coerentemente la politica nei termini di un controllo assoluto da parte da parte dello Stato della vita degli individui sapete qual è il punto limite che è una cosa molto interessante il punto limite Hobbes lo individua ovviamente nella proprietà individualismo proprietario e così via ma proprietà non è soltanto proprietà privata come proprietà dei beni dei beni ma è anche in un certo senso proprietà del proprio del proprio cioè uno Stato può legittimamente eh insisto su questo termine perché è importante legittimamente condannarmi a morte e non c'è bisogno per forza che abbia compiuto un crimine sì c'è una giurisprudenza e quindi il patto di unione e di soggezione si regge proprio sul fatto che se io non compio nulla di illegale posso stare tranquillo che non vengo colpito dallo Stato ma se lo Stato decidesse per qualche motivo perché mi reputa pericoloso beh pensate scusate ai reati di opinioni un grande contemporaneo di Hobbes e di Locke grandissimo poeta John Milton una delle opere più belle e più importanti è l'Aeropacitica che è una formidabile difesa della libertà di stampa libertà di stampa e anche libertà d'opinione cioè la legittimità da parte di chiunque di dire come la pensa senza per questo essere condannato beh quella che dovrebbe essere in teoria per noi un dato acquisito è abbastanza scontato era ai tempi di cui stiamo parlando un elemento di una radicalità straordinaria il controllo sulla stampa è un controllo formidabile che gli stati hanno sempre cercato di esercitare dico cercato perché poi lo sappiamo benissimo tutt'altro che facile un esempio anche qui sempre per restare in temi lucreziani un esempio che voglio fare abbastanza divertente è la prima tradizione italiana dell'erronatura che dovrebbe risalire che sarà 1715 che doveva essere pubblicata a Napoli sembra che sia stata stampata a Napoli ma di quell'edizione non si trova traccia nel senso che la caccia a quei volumi è stata talmente ferrea e talmente puntuale che non ne è scampato nessun volume è stata ripubblicata poi almeno formalmente a Londra se vi capirà un giorno di guardare alcune edizioni di test italiani tra 6 e 700 troverete spesso luoghi di stampa un po' bizzarri Londra Francoforte Leida erano false indicazioni di stampa molto spesso erano pubblicate erano stampate a Napoli o a Venezia o a Firenze però può farsi indicazioni di stampa perché a volte erano testi che potevano procurare problemi per esempio Della Runnatura non era una traduzione italiana Della Runnatura non era ben vista dall'autorità politica e religiosa anche qui scusate ho detto 1715 Della Runnatura traduzione italiana pensate che la prima traduzione francese vera risale appunto a 50 anni dopo 1769 più o meno se non sto andando adesso un po' a memoria la traduzione di La Francia rivista da Diderot questo per dire come continuasse a creare problemi quello che in fin dei conti non era altro che fra virgolette un'opera di poesia vabbè opera di poesia molto letta ma in latino e quindi in qualche modo il fatto che è vero che le classi colte leggevano tutti leggevano nelle classi colte si reggeva il latino ma appunto nelle classi colte la traduzione in lingue vernacolari significava aprire pericolose strade a pensatori che si rivolgevano non più soltanto alle classi colte ma all'intero popolo o quantomeno anche qua che il papo potremmo ridefinire a chi sapeva leggere che non è detto che fossero tantissimi però sicuramente più di quelli che sapevano il latino e di nuovo riflettete un attimo sul fatto che Descartes abbia scritto alcune cose in francese per dire il discorso sul metodo e i saggi o che comunque abbia fatto tradurre in francese le sue opere non è una cosa di secondaria importanza per dire il buon Spinoza le sue opere 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 probabilmente la sua idea il suo obiettivo era quello di influire sulle classi colte in un primo momento l'italiano ha un discorso leggermente diverso perché era molto letto però anche era latino la lingua universale per eccedenza delle classi colte che era un formidabile filologo o quantomeno un grande latinista un grande grecista appunto che tradusse per esempio alcuni dei saggi di Bacuone in latino quando era suo segretario le sue opere più belle sono scritte in inglese e in latino era lui stesso spesso che approntava la traduzione un latino splendido dicevo qual è il punto limite della proscrittiva la proprietà nel senso anche di proprio corpo lo Stato può condannarmi a morte ma non può impormi di uccidermi e non può neanche chiedere a mia moglie cioè quindi quando ha il nucleo familiare fondamentale di salirmi testimoniando contro di me ma la questione veramente essenziale è proprio quel punto limite perché uno Stato non può impormi di uccidermi cioè riflettete un secondo se dobbiamo pensare a una figura di filosofo per eccellenza all'antichità pensiamo a Socrate Socrate come muore davendo la cecuta cioè di fatto formalmente suicidandosi non per obbedire a una sentenza siamo d'accordo è stato condannato a morte tu ti devi uccidere tu devi liberare ma tu e Socrate cittadino atenese dice vabbè ho rispettato le leggi quando queste mi erano state favorevoli devo rispettarle anche adesso anche se sono vittima di un errore perché queste stesse leggi che mi hanno cresciuto vanno sempre rispettate ripensate un secondo solo un secondo a Montegna dell'esperienza quel punto in cui dice che appunto le leggi vanno osservate non perché sono giuste ma perché sono leggi e ricordate un attimo questo passo del critone di Platone comunque dell'assunzione di Socrate le leggi vanno sempre rispettate perché sono leggi che riguardano la comunità io sono cresciuto in queste leggi io sono cresciuto in questa comunità se io non obbedissi alle leggi le delegittimerei e il danno sarebbe molto superiore rispetto a quello che io posso subire morendo una posizione filosoficamente oltre che eticamente di straordinaria straordinaria spessore e importanza però appunto esisto la condanna è a morte mediante la ciputa non è stato condannato a morte a questo punto è stato che sono decapitato apriamo se mi viene in mente ho ucciso ucciso un altro uomo no allora si dà per fra virgolette scontato che l'autorità suprema della città valga anche per quel che riguarda la mia vita nel senso che può ordinarmi di fare qualcosa che va contro il principio di sopravvivenza minimo di conservazione e io obbedisco l'individuo l'individuo in qualche misura anche se per esempio Hegel nelle sue straordinarie lezioni di storia di filosofia individua nei sofisti e poi di Socrate la nascita dell'individuo nel senso moderno comunque un individuo che ha si realizza all'interno di una comunità fuori di quella comunità non ha senso ecco perché Socrate si rifiuta di scappare pur avendo la possibilità di farlo testimone di una battaglia filosofica una battaglia politica ma soprattutto si stimola il fatto che la comunità ateliese è comunque la sua comunità egli non può tradirla in Augusto questo non è concepibile se lo Stato si costituisce come costruzione artificiale perché anche questo è una cosa importante rispetto alla tradizione filosofica in Aristotele andiamo al massimo teorico quantomeno quello che ha avuto la maggior influenza dal punto di vista storico in Aristotele la vita nello Stato la vita nella città è l'esito di un percorso naturale di una teleologia l'uomo che vive all'infuori della città è una bestia o un Dio nel senso che davvero per natura l'uomo deve vivere in comunità in un'organizzazione statale c'è una naturalità che per esempio ritrovate appunto per dire in Marsile della Padua che ritrovate in quasi tutti quasi tutti teologici politici Machiavelli da questo punto di vista è già più ambiguo non è molto chiaro però per dire questo è un elemento che di fatto trovate ma trovate anche in Etienne de la Boisi un discorso sulla servitù volontaria o anche in Montaigne in fin dei conti gli uomini soli non ce ne sono in Hobbes lo Stato è una costruzione artificiale che ha un obiettivo salvaguardare gli individui quindi a questo punto una costruzione artificiale che ha l'obiettivo di garantire la conservazione della vita degli individui come va come può dire a un individuo di togliersi la vita se il patto tra meno e storico è questo tu non puoi costringere a fare qualcosa cosa che mi nega in quanto individuo questo ci pensate è veramente molto importante perché da questo punto che poi per esempio un autore come Locke svilupperà tutta la sua teoria dei diritti individuali naturali e Locke poi in un posto speciale ce l'avrà il lavoro il diritto alla proprietà il Locke è un diritto naturale perché non è risultato in un'organizzazione statale è piuttosto e semmai il risultato del lavoro che io faccio per quale motivo? io ho diritto a mangiare una mela che ho colto e se qualcuno giunge mi ruba la mela compie un crimine perché la semplice fatica che ho fatto nell'alzare il braccio a prendere la mela fa sì che quella della mela diventi mia cioè sono slittamenti spostamenti che fanno sì che un autore come Locke rispetto a Hobbes diminuisca la portata della potenza dello Stato e Locke per esempio sarà un sostenitore di una prima forma di divisione dei poteri la distinzione dei poteri viene attribuita solitamente e giustamente a Montesquieu lo spirito delle leggi che a sua volta era un grande lettore di Locke la distinzione dei poteri si trova in una certa forma anche sia pure non così perfezionata anche in Locke proprio perché qual è lo spostamento essenziale ai tempi di Hobbes la sicurezza che Hobbes desiderava era anzitutto sicurezza nei confronti di tutti quei movimenti ereticali e radicali che sembravano sovvertire continuamente lo Stato e la società e la sicurezza nei confronti delle rivolte e la sicurezza nei confronti delle violente guerre intestinali delle guerre civili cioè il contesto è questo appunto la rivolta di Cromwell l'uccisione di Carlo di Carlo I il primo non c'era più stato un altro Carlo in Inghilterra non si sa neanche se l'attuale diventerà mai re sarebbe il secondo il primo fu quello ucciso legittimamente tramite processo eccetera eccetera anche qua non è una riflessione da poco questa l'altra grande opera umbsiana Behemoth le due grandi opere umbsiane filosofia politica invece il Decide che è straordinario ma adesso mi interessa c'è il Leviatano e il Behemoth in entrambi i casi obbs fa riferimento come titolo a due grandi bestie presenti nella Bibbia il Leviatano il Leviatano sarebbe non è molto chiaro diciamo identificarsi con la balena nella Bibbia se non ricordo male nel libro di Giobbe a un certo punto quando Giobbe a un certo punto si stufa e si lamenta con Dio Dio dice tu chi sei per lamentarti con me hai mai preso un lago il Leviatano? no e allora taci notate il rapporto è di potere non di giustizia ma di potere di nuovo tema Montegnano che in parte è anche calvinista è giusta la volontà di Dio perché è volontà di Dio la legge va rispettata in quanto legge non in quanto giusta chi sono io per dire se è un legge giusto o no? hai mai preso a Dio un Leviatano? no e allora lo vuoi ma il Leviatano in Oms si caratterizza appunto come un essere unitario costruito da tanti più che più ma unico con una sola testa il Bemoth sarebbe nell'Antico Testamento un mostruoso animale di terra non di mare probabilmente l'Ineoceronte a volte viene rafficurato così che si caratterizza però nella prospettiva opsiana da che cosa? da avere molte teste il Bemoth è il grande dialogo filosofico dedicato alle guerre civili molte teste molti conflitti molte opinioni nessuna autorità suprema a cui fa riferimento porta alle guerre civili ininterrotte per mettere finalmente a tacere per mettere sì per far regnare la pace è necessario che a comandare sia uno solo e non tanto anche qui come elemento di di paragone in quella che è una delle opere più belle e più strane di Shakespeare Troia e Cressida un'opera stranissima veramente strana a un certo punto che è ambientata durante la guerra di Troia e gli ultimi periodi della guerra di Troia si conclude con l'uccisione di Ettore da parte di Achille ma insomma è un'opera strana dicevo perché per esempio Achille dunce dall'essere quel grande eroe che è in realtà un vigliacco che fa uccidere Ettore dai suoi dai suoi uomini mentre lui lo guarda e basta nel confronto fisico insomma molte molte particolarità in cui a un certo punto all'inizio di quell'opera c'è un dialogo tra Agamemnon e Ulisse e Agamemnon gli dice ma com'è possibile che noi siamo molti di più e non riusciamo a conquistare questa benedetta città sono dieci anni che siamo qui come mai? e Ulisse risponde hai visto quante bandiere ci sono sono tutti sono tutti di colore diverso loro hanno un'unica bandiera un'unica autorità sono tutti compatti uno solo comanda e gli altri obbediscono quindi in realtà tra di noi siamo in perenne conflitto Trone e Cressida è stato scritto a Shakespeare negli anni in cui si passava dal regno di Elisetta I al regno di Giacomo I Stuart Giacomo I Stuart come sapete era figlio di Maria Stuart ed era scozzese e in Scozia appunto la chiesa principale dominante era la chiesa presbiteriana di nuovo Giacomo I Stuart che in un primo momento si è appoggiato alla chiesa presbiteriana una volta diventato re d'Inghilterra e dice col cavolo fece proprio la posizione della chiesa anglicana perché era quella che garantiva il potere questo tema ritorna molte teste molti conflitti la sicurezza è sicurezza è una fonte di questi conflitti con Locke il tema della sicurezza comincia a solo una sfumatura diversa perché per esempio che troverete anche in Montesquieu sicurezza è anzitutto sicurezza nei confronti dello Stato cioè la forma politica la forma di Stato di cui Locke si fa promotore è quella forma che garantisce ai cittadini di poter stare a sicuro anzitutto dallo strapotere statale non c'è più il timore non tanto almeno delle rivolte delle rivoluzioni delle guerre civili ma di uno Stato eccessivamente potente mentre prende sempre più il sopravvento l'importanza data alla scusate ai diritti individuali Jung si trova anche politicamente al termine di questo percorso Jung per esempio è dal punto di vista politico un conservatore diciamo un conservatore un conservatore perché per esempio non era un grande ammiratore della rivoluzione americana e Jung cominciò a osservare anche questi fenomeni le posizioni di Jung in ambito filosofico politico erano essenzialmente quelli di conservazione dello status quo della tranquillità ma anche di nuovo con un regime statale temperato le passioni sono qualcosa che quando vengono scatenate non sono controllabili per questo una educazione filosofica delle passioni è importante per questo l'analisi di Jung che vedremo a partire la prossima settimana sulle passioni è così importante e per questo l'attenzione che Jung dà all'interpretazione della ragione come una passione accanto alle altre essenzialmente ci deve mettere sull'avviso lo scetticismo Jungiano è un scetticismo di carattere conosciuto e questo è fuori discussione ma è anche un scetticismo come posso dire che ci ricorda come la presunzione di giungere alla verità in ambito etico è una presunzione pericolosa qual è l'unica verità in ambito etico che l'uomo può veramente attingere? essenzialmente la propria felicità il proprio benessere e ciascuno di noi è giudice del proprio benessere e della propria felicità ciascuno di noi sa che cosa mi procura piacere mi fa stare bene altro elemento di riflessione molto importante Jung che lo accomuna appunto ai radicali francesi da questo punto di vista l'autonomia di giudizio dell'individuo su temi essenziali quali per esempio il suicidio allora come ho detto poco fa uno stato non può imporre nella prospettiva obsiana a un uomo di uccidersi può impedirglielo? questo è un altro tema perché poi c'è un altro corrispettivo nella legislazione inglese dell'epoca e non solo dell'epoca in fin dei conti ancora fino a pochi anni fa il tentato suicidio era un crimine si veniva puliti con la prigione nel caso il suicidio riuscito era un crimine che veniva pulito con le sprovezioni dei beni dei familiari e così via allora lì si va a toccare un tema come potete ben comprendere che è estremamente controverso perché riguarda di nuovo il confine di legittimità tra libertà individuale e organizzazione se vogliamo società comunità cioè quel tema che ho avuto occasione di dire viene definito in termini secondo me più lucidi tutti da Montesquieu non a caso nelle lettere persiane ma che è presente anche di Hume è presente in moltissimi altri autori un italiano Alberto Radicati di Passerano per esempio ha affrontato lo stesso problema cioè non è soltanto un problema attenzione ragazzi non è solo un problema di carattere religioso non è solo in questione la credenza o meno sull'immortalità dell'anima per cui la questione del suicidio viene inquadrata come una legittima azione o meno dell'individuo di gestire la propria vita nei confronti della Chiesa questo è uno degli elementi ma non è il solo e forse non è neanche più importante qualche decennio dopo sì un secolo dopo circa quando Standale scriverà La Certosa di Parma concluderà la sua opera dicendo il suo protagonista Fabrizio Del Longo che in seguito tutta una serie di vicende tra cui la morte e il figlio dice se non fosse stato un così sincero credente Fabrizio Del Longo si sarebbe suicidato ma appunto era un sincero credente quindi quello di suicidio non era accettabile accettabile notate l'identificazione curiosa se ci riflettete il problema viene posto esclusivamente in termini religiosi o meglio Fabrizio Del Longo che durante il romanzo una combinata di tutte quindi francamente non è certo un modello di virtù civica non si suicida non si uccide perché è un sincero credente quindi in base a una scelta autonoma fondata su questioni di fede che c'è di strano dal nostro punto di vista più nulla perché siamo oramai abituati a pensare in termini relativa almeno autonomia tra poteri spirituali e temporali in realtà in quel romanzo Standale fa capire come non si metta neanche in questione legale o di comunità i personaggi di Standale sono personaggi che se vogliamo definire in una maniera monale sono brutalmente anarchici Giulia Sorel Fabrizio Del Longo e gli altri non è che abbiano una grande stima del potere costituito e delle leggi nelle croniche italiane bellissimo Standale fa una grandissima esaltazione dei briganti italiani come quelli che si oppongono alla legge e al potere costituito quindi questo è già dire come si hanno cambiato alcune cose notate però che il vol stand è da questo punto di vista un allievo tutt'altro che sciocco di destude tra si e di Montesquieu che lo dice lui stesso in molti punti cioè questa è una posizione filosofica la sua del settecento il dibattito sul suicidio riguardavano soltanto in relazione con la religione ma anche con lo Stato anche con la comunità essenzialmente a chi spettava l'ultima parola per alcuni come io e come Montesquieu che si rifacevano in qualche misura alla tradizione stoica e qui tocchiamo un altro tema su cui insomma non avremo l'occasione di fermarci ma avete già visto anche a proposito di Montaigne il recupero di una filosofia antica che continua ad essere sempre attuale e spesso non necessariamente attraverso la lettura diretta dei filosofi come Crisippo faccio per dire ma spesso troverso la lettura dei grandi divulgatori romani Seneca altro grande filosofo suicida vero è che se Nerone ti dice ucciditi non ci pensi tante volte perché l'alternativa probabilmente è peggiore ma come viene raccontato da Tacito la morte di Seneca diventa una morte esemplare nella misura in cui è un'affermazione della credenza e della convinzione senechiana sull'immortalità dell'anima per cui proprio perché l'anima è immortale io posso decidere di uccidermi perché tanto il corpo è soltanto un incontro si racconta che Seneca al momento si sia fatto tagliare le vene stesse leggendo il fedono di Platone non a caso è un grande dialogo sull'immortalità dell'anima che si sia accorto come non avrebbe avuto il tempo di terminare la lettura si sia fatto rifucire le ferite poi si sia fatto riaprire una cosa che da gran guignol per dare un'idea di un certo tipo di virtù il controllo totale dell'uomo sul proprio corpo comunque ecco libertà anche questa la forma di libertà e quali erano i limiti della libertà tutti quei temi che dalla speculazione di Hume in ambito etico di Rousseau di Dolbach confluiranno poi nell'ultimo autore che tratteremo una lezione che è Cavani questo autore di cui vi ho accennato più volte questo medico filosofo più medico che filosofo ma no neanche più medico che filosofo che non è che abbia lavorato molto come medico comunque sicuramente un filosofo che non ha la levatura speculativa di Hume o di Descartes l'ho già detto ma che presenta le caratteristiche alcune caratteristiche particolari perché è un autore che come posso dire nel momento in cui davvero l'Europa e non solo la Francia rovescia radicalmente tutte le proprie posizioni si trova un crocevia e mette cerca di cominciare a mettere su nuove basi gli elementi della retorica della poetica altri autori dell'etica Cavani della filosofia della politica quando Cavani scriverà i rapporti del fisico e del morale dell'uomo ve l'ho già detto intende per morale non semplicemente l'etica tutt'altro ma essenzialmente quello su di riguardare tutti i fenomeni mentali lo stesso vale per Hume il titolo completo del trattato sulla natura umana è trattato sulla natura umana riguardante diciamo così il tentativo di introdurre il metodo sperimentale di ragionamento riguardanti anche a proposito dei soggetti morali argomenti cioè perché questo tentativo di introdurre il metodo sperimentale di ragionamento il metodo di ragionamento sperimentale meglio nelle materie morali e quali sono le materie morali? non sono l'etica sono le sfere del mentale e quindi e quindi di nuovo le passioni le idee l'intelletto come formazione dei pensieri e così via metodo sperimentale vedremo la prossima settimana poi che è un riferimento molto preciso al metodo newtoniano questo come ho detto tra i cento anni che sono passati ci sono stati straordinari rivolgimenti dal punto di vista concettuale filosofico politico ma anche dal punto di vista scientifico il Descartes grande filosofo e scienziato si scontra con un altro titano nel pensiero si scontra metapolicamente con Newton in realtà questo è un altro discorso e la fisica newtoniana diventa a un certo punto il paradigma vincente il metodo sperimentale newtoniano è quel metodo che si impone contro contro le pretese metafisiche cartesiane contro questi sogni della ragione che sono sogni abbastanza assurdi un autore come Cabani alla fine del settecento continuerà a dirsi sostenitore di un metodo sperimentale contro le speculazioni metafisiche qual è l'elemento che però Cabani sullo scorto di Jung rivaluterà alcuni tra cui essenzialmente uno lo scetticismo nella scienza che però viene ridefinito in ambito medico da Cabani come critica dei grandi sistemi e piuttosto rivalutazione una prospettiva probabilistica che è molto vicina vedremo alcuni approcci romiani l'uomo non può conoscere nulla con certezza riguardante l'ambito della medicina che non solo ma con un buon grado di probabilità secondo l'elemento la prospettiva filosofica medica di Cabani è una prospettiva ne abbiamo già parlato essenzialmente noi potremmo dire sintomatica sintomatologica o indiziaria molto costruita sull'idea di disciplina che lavora con gli indizi per costruire fenomeni in cui la relazione tra soggetto conoscente oggetto conosciuto non è una semplice relazione di scoperta mettiamola così non ha la prospettiva cartesiana della conoscenza delle essenze indecata alla fine una res cogitans viene pensata e conosciuta nella sua essenza che ma lì questo è impossibile noi non conosciamo ormai le malattie quando anche riuscissimo a individuare qualche elemento patogeno una qualche causa noi oggi diremmo un qualche batterio un qualche virus ma l'identificazione tra il virus e la malattia anche nella relazione di causa-effetto è una relazione io mi direbbe puramente temporale statistica forse ma il virus di per sé non è la malattia sono enti concettuali diversi come lavora il medico quindi a cosa serve la conoscenza di eventuali cause oggi noi diremmo ovviamente a trovare la terapia ma scusate questa è una discussione che possiamo fare oggi che abbiamo degli strumenti straordinari a partire dagli antibiotici e così via ma allora che non esistevano assolutamente queste medici di questo genere così potenti su cosa si lavorava sulla prevenzione e quindi sulla capacità di ecco questo è un tema importante di ridefinire su basi scientifiche razionali l'organizzazione della vita della comunità quindi per esempio il medico che diventa in qualche misura un consigliere fondamentale del politico come vanno organizzati gli ospedali perché gli ospedali sono divisi i reparti per quale motivo non si mettono uno accanto all'altro determinate persone perché si cerca di dare una struttura così definita questo è il portato e il risultato in realtà degli anni di Cabanet quella cosa assolutamente banale che la cartella clinica è stata inventata da un amico di Cabanet che era Filippinelle medico Filippinelle fu anche tra i primi a iniziare quella cosa che è così odiosa negli ospedali che è la visita mattutina dei medici che passano guardano il malato guardano la cartella clinica a volte gli parlano a volte no e poi vanno via perché il controllo quotidiano ma su cosa si basava questa idea sulla verifica puntuale di uno sviluppo storico della malattia e viene identificata semplicemente come qualcosa che viene costruita la malattia e risulta di una costruzione concettuale tra un osservatore e un evento osservato non esiste in un certo senso la malattia in sé è una costruzione anticipiamo una cosa che diremo di Jung la prossima settimana quando cominciamo a affrontare le cose esiste la percezione in sé? no nel momento in cui qualcosa viene percepito Jung è molto chiaro l'idea è una percezione illanguidita quindi una forma depotenziata di percezione l'idea del rosso è qualcosa di più debole del rosso della percezione che ho del rosso perché la percezione che ho del rosso è qualcosa di immediato forte che si impone ma contemporaneamente con il percepito si costituisce anche il percepiente il soggetto che percepisce che percepisce e che quindi pensa non è qualcosa di sostanziale e precedente al percepito o meglio che proprio Jung il discorso sembra non è mai così semplice è ovvio che lo è non è che io vengo a esistere nel momento in cui percepisco qualcosa questa è una posizione quasi berkeleyana es percepi in Berkeley le cose esistono a misura in cui vengono percepite voi esistete perché io vi percepisco io esisto perché voi vi percepite ma nel momento in cui percepisco qualcosa io mi percepisco un percepiente che in qualche misura giungo all'estero non è questo il punto Jung dice è ovvio che esiste ma non è questo ma che io me ne renda conto la consapevolezza il conoscermi come qualcosa di pensante è un punto diverso e come dicevo che uno degli elementi importanti nella trasformazione anche di certezze di scetticismo in Montaigne essenzialmente per esempio l'esistenza del mondo esterno non è un problema particolare Montaigne a un certo punto prende anche un po' in giro quegli antichi filosofi che appunto rimproveravano gli allievi perché li salvavano da un dilupo perché se voi siete davvero scettici sapete benissimo che il mondo esterno non esiste allora se anche cado in realtà non i discorsi sono questi è ridicolo ma con Descartes se ci pensate il problema scettico veramente rilevante diventa proprio quella esistenza di un mondo esterno soggetto pensante le meditazioni al termine il recupero fondamentale che avviene nell'ambito di tutte le meditazioni è la certezza dell'esistenza della conoscibilità e dell'esistenza di un mondo esterno perché qualcosa che può essere conoscibile non esiste un triangolo è conoscibilissimo ma i triangoli non esistono non esistono in natura sono costruzioni elementari che il mondo esterno esista è qualcosa che va dimostrato Jung dice è ovvio che il mondo esterno esiste ma non lo possiamo dimostrare il punto è questo certo che il mondo esterno esiste ma davvero posso essere così presuntuoso folle possiamo anche dire folle ridicolo da pensare che il mondo esterno è tutta la mia rappresentazione ma per piacere nessuno pensa sul serio una cosa del genere ma non posso dimostrarlo il concetto di dimostrazione che in Hume ancora come in Hobbes in fin dei conti è molto vicino a quell'esito in Hobbes la dimostrazione ha un oramento sul logistico la potenza della filosofia obsiana è da una parte dell'empirismo come abbiamo detto dall'altra nella logica nella capacità di utilizzare la logica la logistica per spiegare i fenomeni e quindi come dire combinare questi giuramenti anche in Hume questo argomento è presente ma in Hume la cosa diventa radicale perché dice la ragione che è una passione accanto alle altre eccetera eccetera lavora con formule diciamo noi ma le formule sono verità analitiche la matematica si fonda su verità analitiche noi dovremmo essere capaci per avere una coscienza vera del mondo materiale dei giudizi sintetici poi chi di voi ha studiato un po' Kant si ricorda questa distinzione essenziale giudizi analitici che sono sempre a priori in cui essenzialmente il predicato non aggiunge nulla al soggetto si limita a chiarire a spiegare ciò che è contenuto del soggetto tutti gli scapoli sono uomini non sposati infatti non ho alcun problema ad affermare che è una verità evidentemente vera in tutti i modi possibili avrebbe detto Leibniz sempre vera perché la parola scapolo significa uomo non sposato ma il giudizio sintetico non ha questo carattere di necessità come pretenderebbe la scienza perché è sempre un giudizio posteriore se affermo che tutti gli scapoli sono uomini per poter affermare una cosa del genere devo verificare se tutti gli scapoli davvero sono uomini ma una volta che è terminato di verificare non possa essere certo che non sia nel frattempo spuntato un altro che non lo sia quindi è sempre un andamento soltanto probabilistico vedremo come questo elemento è ciò che in qualche modo questa distinzione tra piano della logica piano della coscienza empirica e piano della conoscenza sperimentale e piano dell'esperienza è ciò che permetterà a Jung appunto di riaffermare un scetticismo assolutamente radicale per cui il piano su cui si muove Jung è un piano noi potremmo dire linguistico che ci ricorda un po' Montelli ma anche se insomma non so assolutamente la stessa cosa gli a priori io mi amo non è corretto parlare ma si può parlare di un a priori linguistico le nostre abitudini in nuovo le nostre consuetudini in nuovo il nostro linguaggio è costruito su una serie di assunti che non sono mai stati messi in discussione e che sono funzionali perché non si abbia la pretesa che siano veri nel senso di corrispondenti a qualcosa al lì fuori del linguaggio al lì fuori della costituzione al lì fuori dell'abitudine e qui insomma l'abitudine mi fermo perché ne abbiamo parlato anche abbondantemente precedentemente va bene ci vediamo martedì prossimo